vabbè dai spiego anche a voce allora praticamente qua abbiamo preparato tutti i cibi un po più o meno come l'altro l'altra cosa che in azienda ma siamo a casa del nonno di un prato cibi preparati prima pronti per essere mangiati siamo venuti qui all'altarino della casa del nonno e poi si fanno tipo delle cose con l'incenso tipo dei si mette la uno poi si fa una specie di inchino qua davanti sempre con il sempre con il con l'incenso e poi si va a mettere a posizionare là dove c'è l'altare e adesso abbiamo finito di fare tutte queste cose quindi andiamo a mangiare parlato nel frattempo abbiamo perso la nonna che sta andando non so dove bene 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 bene